Buongiorno, siamo qui con Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, questa meravigliosa città le cui mura quest'anno compiono 500 anni e che ospitano i mondiali di ciclismo Toscana 2013. 500 anni delle mura, appena dopo l'inizio della corsa più importante dell'anno in Italia, ma non solo in Italia, nel mondo, anzi forse la manifestazione più importante in assoluto nell'anno sportivo perché i mondiali di ciclismo sono probabilmente il fatto più rilevante di questa annata sportiva. Lucca è il luogo da cui parte il mondiale ed è orgogliosa di esserlo, sarà per la città un momento in cui potrà dimostrare se stessa con le caratteristiche che ha, con i suoi monumenti, con le mura da cui la Caruana del Mondiale muoverà, con la sua grazia, con tutto quello che questa città ha a disposizione ma anche con l'amicizia che è disposta a dare a tutti coloro che saranno ospiti qui da noi. Sappiamo di avere un sindaco ciclista? Sì, sono stato un discreto ciclista, posseggo una bicicletta da corsa che è paragonabile a una Mercedes degli anni 60 e di tanto in tanto la usa ancora, ho pochissimo tempo come si può immaginare ma insomma cerco di non abbandonarla. Un'ultima curiosità, i lucchesi in passato hanno dato lustro a questa città anche e soprattutto andando all'estero, operosi come sono, e creando una delle più grandi comunità mondiali. Ora tutto il mondo ritorna a Lucca per vedere i mondiali e per rendere omaggio a questa città. I lucchesi hanno creato molte comunità, tant'è che esiste un'associazione denominata appunto Lucchesi nel mondo e che raccoglie tutte le comunità lucchesi sparse sui cinque continenti. Bene, questa volta è il mondo che viene a Lucca, è il mondo che si ritrova qui da noi e per noi è un momento di grande festa. Quindi invitiamo davvero tutti a venire in questo splendido territorio? Naturalmente, naturalmente, è l'occasione per non solo godere della città e dei suoi prodotti ma per godere anche dell'atmosfera della nostra città, del modo di vita che qui si svolge, un po' più lento che altrove, un po' più tranquillo, un po' più in linea con quello che è anche il conforto spirituale. Grazie Sindaco, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti.